Gli agenti della Polizia di Stato hanno colto in flagranza due pluri pregiudicati catanesi nei garage di un condominio nei pressi del Corso Italia, con chiavi e grimaldelli utili per forzare le serrature. L'intervento è scaturito dalle segnalazioni dei condomini che hanno chiesto l'intervento degli agenti, dopo aver notato i due individui, a loro sconosciuti, a girarsi proprio all'interno dei locali garage. In pochi istanti i poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti sul posto e hanno trovato i due ancora dediti ad armeggiare proprio nello stabile. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati con gli oggetti tipicamente impiegati per lo scasso e per forzare le serrature. I controlli hanno rivelato come uno dei due soggetti, un 47enne, fosse sorvegliato speciale, ragion per cui è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, mentre l'altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di arnesi atti allo scasso. Ancora una volta la collaborazione tra polizia e cittadini ha consentito di scongiurare l'esecuzione di condotte criminose. Per questo, non appena ci si accorge di qualcosa di sospetto, è sempre fondamentale richiedere l'intervento al numero unico di emergenza 112.